Il forte temporale che si è abbattuto ieri sera su tutta la provincia di Trieste ha colpito con maggiore violenza l'area di Muggia, causando l'allagamento di alcune strade, case e negozi. I problemi maggiori nel centralissimo corso Puccini, dove un'erboristeria è stata completamente allagata e non è la prima volta che accade. Purtroppo a causa probabilmente della cattiva manutenzione delle tubature, dei tombini, degli impianti fognari, nel mio caso si allaga il negozio a causa di 5 tombini presenti all'interno del negozio, uno in particolare situato nell'intercapedine e quando succedono queste piogge improvvise, abbondanti, soprattutto estive, purtroppo il negozio è completamente allagato. Io ho avuto dei danni molto importanti, anche perché è successo 15 volte in 5 anni e questa situazione andrebbe risolta perché così non si può andare avanti. Sappiamo che c'è questo problema in questo negozio all'interno del centro storico, interverremo nel miglior modo possibile d'accordo con la proprietaria perché lì siamo in una proprietà privata. L'allerta meteo era stata emanata dalla protezione civile, infatti si sono verificate piogge intense e venti forti da sud. I volontari del gruppo comunale della protezione civile sono intervenuti anche in località Santa Barbara, per colate d'acqua e fango che hanno invaso garage e piani bassi di alcune abitazioni, interventi anche presso la scuola di Amicis di Via D'Annunzio. Abbiamo avuto problemi nella zona di stazione autocorriere, in centro storico, in alcuni punti e poi una situazione di criticità su un edificio a Santa Barbara. Però nel giro di tre ore, grazie al lavoro della protezione civile, dei vigili del fuoco che sono intervenuti a scuola elementare, dove stiamo ospitando più di qualche centinaio di ragazzi per il torneo di Muggia Basket, si è risolto tutto nel giro di tre ore, era tutto a posto.